we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video allora effo dobbiamo viene dell'autobus e si butta giù in verticale e si deve toccare terra in verticale ok da lì possiamo muoverci in picchiata sì e poi quando ti apre obbligatoriamente il deltaplano non puoi comunque direzionarlo di lasciare che scende ok nel momento in cui siamo a terra tu devi fare almeno cinque kill cioè cinque in tutti e due solo armi verdi e bianche per te e io non posso usare la pietra sono 20 ca di mila d'accordo a vincere a non si racconta cioè ci provano già metterò tutta io non posso usare la pietra e questo sì ok possiamo andare giusto in picchiata picchiata e appena aprì il coso lasci la w doppia direzioni direzioni non puoi direzionare non puoi direzionare mi scusi ma cambia solo 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 terribile posare solo no dai ma che sfiga ma a terra sul bordo della montagna non formare la pietra effetto la farmo io è una sfida veramente assurda non posso neanche farmare sì ma cristo non posso formare la pietra sono mocegi a corallo allora io pesco ma ho un pump del nonno verde e una r verde se potrebbero servirti ai vostri massimo armi verdi minimo cinque kill mica quante pretese il toni di lanciare un medico di lanciare un medico venga pronto ma perché sono me stai lanciando venga venga faccia 11 non prima foto 13 che sparo all'acqua e ma devo fare anche chi le fette secondo il momento da jump deve metterla la meta si poi vai 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 mettiamo sull'acqua così si aspetta stai facendo e se ci si spacca così non moriamo no stai dietro xiu poi labbra più tardi possibile la cosa no si apre il primo possibile per avere più lungo guarda la differenza di altezza tramete non ti muovere non ti muovere quando terri qua mi preoccupano a me no a lei no no non ci sono diciamo no dobbiamo incere ma se festazzo non si preoccupa per le kill io sono tranquillo si sia tranquillo è da solo questo vai 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 sono io che sparo da qua entro con te entro con te è one shot di giù allo spaz facendo attenzione prende lo spazzo oro preso quanti metri di tau uno si si ricordi a 20 te farselo 22 ok e mancano 4 di kill all'acce del favore se non era mai a tenere al singolo blu che il tuo spazzo oro ma si perché se lei muore dall'avversario un problema è questo non ci aveva pensato a questo vicolo fattore assolutamente no vai 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 un settimo mese continuo me lo mangio me lo mangio venga venga il pesce scudo me lo dà gliel'ho già dato se l'hai ripreso un altro un altro cristo 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 morto no mi hanno cichinato questo non è buono lascio qua prenda 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 si 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 vai 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 prendo io vai vai ha preso tutto questo scar lo voglio lo prendo ma sei serio cosa ce l'hai tu lo spara slurp ah si l'ho preso no vabbè gg andiamo oltre questi forza 24 blu attenzione che i latino 25 di sei craccato tranquillo andiamo in safe attenzione che si copra sono con te sono le autorità li odiamo li odiamo questi f 21 si ma dobbiamo andare in safe prima saliamo qui si però faccia attenzione anche davanti non guardi solo lì si può gusti su tutto il gioco uno qui 32 32 28 buono buono andiamo in safe andiamo in safe è morto uno fuori safe le persone che il bello si basta f basta spingere morti entrambi fuori safe buono buono 4 kg buono buono non c'è bisogno ce ne andiamo ce ne andiamo mi dica quanti materiali ha non posso prendere questa pietra lo so e 320 440 dimmi che cosa ti serve mi diamo da del legno un po' di legna insomma questo ci spinge sono in due sono in due faccio un altro box 31 31 mi ha caricato sto fietro e fece anche questo qua sopra sì ma non è problema sia calmo entro da dietro 116 34 bianco a quella morda il mio uno qua da me con calma mi sei come se riesce a capire dove sono guardi guardi la mappa 25 kg abbiamo dobbiamo vincere ho fatto fuori un altro team c'è il senso un altro team che è da solo sono te f sono sta sopra che si copra si copra c'è il segno il mio build devo farmare aspetta vuoi dei pesci no grazie le abbiamo le kill le abbiamo le abbiamo le abbiamo le abbiamo uno dietro c'entra lo senti stazione solo c'è chi devono capire un attimo chi mette al muro eccolo qua sotto non voglio farmelo questo c'è da solo per rischio ammazzare pensare a quelli team da due va bene va bene lasciamogli andare lasciamolo andare c'era c'è la trama se l'ho tanto per i materiali sono quei due la sono i pericolosi lo so che sono quelli due siamo soltanto noi e loro con team da due c'è da media materiale posso darle rimango con 19 di metallo portiamo adesso vai 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 caso lei ha jump che non mi guardano ci guardano gente anche qua si è da solo da solo quindi facciamo lo perdere mi seguo mi seguo mi seguo lei sono con lei poi non ci vedono più non hanno più la linea di tiro non hanno più la linea di tiro vai 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 devo farmare tutto il metallo che posso io sono full ferro non sia troppo fermo allora io soltanto 51 build purtroppo calmo 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 mi devi far farmare tutto questo stanno molto i nike se vi sono fottuti se non farmiamo siamo doppiamente fottuti è fatta che full ferro adesso qua è ferro full ferro anche io in questo momento scendi ma buono buono non prende iniziative si hai ragione hai ragione non possiamo scendere hai ragione mi serve il ferro attenzione a come pickaxe o lei non si guarda bene intorno uno one shot uno del team da due sono sempre dietro di lei eh sì guardo la guld tropper morto 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 sono con lei sono con lei vai 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 vuoi fare il retake andiamo 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 non si chiama il retake però ok non si preoccupi non è un retake questo no perché loro non erano i nike hai ragione mi dia il ferro xviu quanti pesci di scudo ha lei uno ok non lo voglio dobbiamo focussarsi questo team qua che è l'unico da due rimasto oltre a noi venga venga quando vai a contestargli un AIG non è mica un AIG retake no sta buona xviu ok lascia perdere sto cercando di vincere le una sfida qui ha ragione f dici che ti sei stico hanno fatto il giro di me siamo dentro il 6 attenzione morto 1 ok siamo tutti i 2 siamo tutti i 1 siamo tutti i 1 basta è nostro xviu vai f lo lasciamo perdere finchia lo vuoi pushare è ancora in volo fentino vai blu io sto cercando di capire questa è questa qua se non mi chiude fuori è meglio xviu ragione 46 è quello sotto morto siamo 2-1 xviu 104 morto let's go let's go vinci veniva a prendere così e 20.000 beats let's go nooo 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 Grazie a tutti.